Nell'ambito della danza, la presenza di Jerome Robbins, il rivoluzionario coreografo americano, l'autore delle coreografie di West Side Story di Bernstein, si è rivelata un momento di grande prestigio e di particolare suggestione artistica. Afternoon of a phone, su musica di Debussy, variazione sul tema del fauno e della ninfa, danzata da Sylvie Guillem e Laurent Hilaire. Il balletto è stato rappresentato insieme alla prima mondiale di Episodes del grande Maurice Béchal. Appartenenti a due scuole di danza diverse e tra le più emblematiche del Novecento, il loro incontro è stato uno dei momenti più importanti nella storia del festival. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.